L'economia teramana punta sulle imprese femminili, settore in questo momento in netta scesa che traina verso l'alto l'indice di ripresa con lo 0,9% in più, dato che traducendolo sul concreto vede il saldo tra iscrizioni e cessazioni pari a 81 nuove aziende in rosa. La Camera di Commercio di Teramo esprime pieno sostegno all'imprenditoria femminile, anche se il punto debole di questa ripresa è proprio nel credito. Le donne infatti soffrono più degli uomini ad ottenere i necessari finanziamenti bancari. Parliamo delle difficoltà in senso generale dell'impresa avere credito, soprattutto le piccole, le donne, i giovani, i piccoli commercianti, i piccoli artigiani. Dentro a questa difficoltà probabilmente l'imprenditrice donna ha qualche difficoltà in più. Però, ecco, io non farei un caso perché poi ci sono aziende e aziende e soprattutto ci sono, come dire, costruzioni di un progetto rispetto a un altro. Quindi generalizzare è sbagliato. Certo, c'è ancora probabilmente da parte di qualcuno un retaggio culturale su chi fa impresa in senso femminile. I settori dove le donne terramane fanno maggiore impresa sono nell'ordine l'agricoltura, il turismo, le assicurazioni, il manifatturiero e i servizi alle imprese. E sono sempre storie molto interessanti da scoprire. Infatti il Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Teramo, Tiziana Di Sante, ha indetto un concorso riservato agli studenti di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo per la produzione di tre cortometraggi dal titolo Raccontami le imprese delle donne. Raccontami le imprese delle donne, ma come le raccontiamo queste donne e queste imprese? Allora, le raccontiamo in tre cortometraggi, 180 secondi per narrare come le donne siano riuscite attraverso le loro imprese a promuovere l'innovazione, l'impresa sociale, anche le tradizioni del nostro territorio. La cosa particolare è che a descrivere queste imprese, a narrare le imprese delle donne dovranno essere le immagini. Le immagini di tre cortometraggi realizzati dagli studenti della Facoltà di Scienze delle Comunicazioni dell'Università di Teramo. Qual è la situazione attuale dell'imprenditoria femminile in provincia di Teramo? L'ultimo anno ha tracciato un aspetto positivo, siamo cresciute dell'1%, i settori sono sempre quelli caratteristici delle imprese femminili, quindi l'agricoltura, il turismo, il commercio sono quelli nei quali operano maggiormente. Più di 9.000 imprese femminili animano il nostro territorio, una percentuale importante che ci pone i primi posti nelle graduatorie italiane.